Ciao da Nick e bentornati qua su Minecraft RealPack Allora ragazzi ho dato un'occhiata giustamente ai vostri commenti nell'ultimo gameplay che ho appunto fatto qua nel RealPack E un attimo che ci mangio Ok Allora dicevo guardate i vostri commenti ragazzi lo so che mi avete Qualcuno mi ha detto Nick metti in creative rimetti tutto come era prima e così via Ragazzi il problema è che pure che io rimetto mettessi in creative rimettessi tutto da capo E poi a me chi mi garantisce che dopo un paio di gameplay o un paio di ore chiamatelo un po' come vi pare insomma Diciamo a me chi mi garantisce che rimarranno per sempre Perché se è sparita una volta sparirà due volte tre volte Quindi ragazzi praticamente Praticamente io direi che la modda elettrica la mandiamo proprio a quel paese Non c'è proprio non c'è altro da dire perché secondo me è buggata Anche perché se vado tipo dove si scrive qua Vedete electrical age version beta Cioè non c'è una versione definitiva è in beta Però insomma 30 gameplay è durata questa versione è sparita e che devo fare Back up non ne ho Salvataggi di backup non ne ho Non ho la Roma cosula come si chiama Quella mod lì che mi ha detto che facevo backup non ce l'ho Praticamente insomma salvataggi di riserva non ne ho Ne ho uno però è giusto quello fatto appena Cioè quando io inizio a registrare faccio un backup Ma è praticamente Non cambia nulla perché sono tutte e due dei backup uguali Non mi tengo insomma backup vecchio Ogni tanto ne faccio uno però quelli troppo vecchi li cancello Perché non ha senso che io magari vado a riprendere la serie A 10 gameplay fa Cioè non ha senso perché comunque avrei buttato lo stesso un mucchio di gameplay O un mucchio di tempo Quindi a sto punto l'unica cosa che mi resta è sto coso qua Che fa parte appunto della mod Come vedete non raccoglie niente perché non c'è proprio niente Cioè oltretutto mi tocca anche andare a rimuovere Stai cianfrusaio oramai rimasto in giro Le vado giusto a togliere perché non serve più a niente Cioè praticamente ormai sta mod elettrica ragazzi ve l'ho fatta vedere Ma è finita lì insomma Non c'è altro da dire riguardo a questa mod Non la uso più Oddio Aspetta Mi stai a dire No c'è pure altra roba Ma che razza di mod è Ok qua Qua Ok Niente insomma devo togliere tutto sto schifo Ma che è? Ritorna? No non può essere Ecco Ok devo togliere Peccato no era bello Tutto l'illuminazione che partiva in automatico Tutte ste belle cose Senza contare quanti lampioni ho piazzato Ragazzi a me tocca andarle a togliere ovunque C'è una roba assurda Già qui C'è ma quanti lampioni ho Qui avevo messo mi pare una cosa Non so se c'è Avevo messo il sensore Ma è sparito C'è praticamente è sparito È sparito tutto È sparito tutto Qui c'era Vi ricordate i vari controlli Delle luci C'era tutto 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 È sparito Tutto Beh Vabbè Oramai ragazzi Sta mod è meglio che ce la dimentichiamo E Niente Un bel problema Trenta gameplay buttati in quel posto Va bene la spazzatura Non è una brutta parola dirlo La cosa strana è che però Tipo sto coso che l'ho piazzato Non è scomparso C'è come dire che è un bug stranissimo È un bug veramente assurdo A sto punto ragazzi Io penso che l'unico modo come corrente Cioè come corrente l'unica sicura è questa Della Come si chiama questa mod Non me lo ricordo L'industrial craft È l'unico tipo di corrente adatto Più sicura È l'unica corrente più sicura Qua sotto c'è pure una strega Tanto per cambiare È sparita la strega Non c'era la strega Che fine ha fatto? Boh Boh Ma che c'è la lava? Ok E niente insomma ragazzi Peccato Un mucchio di gameplay buttato in quel posto Io vi posso solo dire ragazzi Che come giustamente mi avete detto Nick prepara una nuova serie E ragazzi Vi dico giusto una cosa Ci sto lavorando Ho in mente una nuova serie Spero che sarà bella Ovviamente come tutte le serie che uno fa Però non vi dico altro Anche perché non sono sicuro Al cento per cento Se si farà E perché Beh Non vi dico altro Ma teoricamente Se tutto va bene Penso che una nuova serie di minecraft La dovrei avviare Tra due settimane Qualcosa Ma non è sicuro Quindi Diciamo sicurezza A cinquanta per cento Vediamo Va bene E niente Quindi Che se fa Che se fa Che se fa Che se fa Ero rimasto Niente Mi trovo un po' così Scombussolato Perché i miei piani Sono andati tutti A farsi benedire Stavo a fare tutte ste belle cose E si è rovinato tutto Si è proprio rovinato tutto Una fatica inutile Se sto bug fosse successo prima Era meglio E' successo dopo che ho lavorato Così tanto Per tutte ste cose Vedete che di fatti Ci sono giusto un paio di cose Sono rimaste E tante altre cose Sono scomparse E' tutto scomparso E' scomparso tutto Vabbè Non ci pensiamo più Vai Addio Illuminazione Dunque Non so se E' di peso Dal fatto che sono andato Nell'altra mappa Potrebbe essere Ma chi lo sa Comunque Allora Vediamo un po' A sto punto Tanto vale che tolgo Ste cose Che non me ne può fregare De meno Che chi è Mi ha fatto cacassotto Sto coso piccolo Ah quel paese Mi ha fatto cacassotto Andiamo a dormire un attimo Raga Bruciano gli occhi No ormai ve l'ho detto Quindi Stava di L'unica cosa più sicura Appunto E' la corrente Questa qua E anche Che vizio oggi Ma dove Cacchio escono Ma dove Escono Boh A sto punto Direi che Sarà meglio Illuminare la casa Con Le torce Che quelle Sono più sicure Vediamo un po' Abbiamo 64 torce Andiamo a piazzarle In giro Per casa Dai Vediamo un po' Già Potrei fare Tipo dei lampadari Beh magari Ne metto Una qua Una qua 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 Ok Mettiamo quindi Un po' Di torce In giro Oramai Non c'è altro Da dire Scomparso Tutto quello Che appunto Era Come luce Non c'è Molto Altro Da dire Se non Che Nick Deva andare A piazzare Un po' Di luce In giro Ok Allora Un paio Di luci Qua e là Qui Dove le metto Dove le metto Metto Una qua Una qua E Ne potrei Mettere Una qua Una qua Ok Beh dai Giusto per Illuminare un po' La casa A meno Che di notte Non dovrei Trovarmi Troppi Mostri In giro Qui c'è Parecchio Spazio Non abbiamo Fatto Ancora Le stanze Quindi direi Che potrei Mettere Qualche Lucetta Qua e là Giusto Per Illuminare Un pochettino Allora Qui Direi Che Mettiamo Qualche torcia Qua e là Giusto Si Poi Una qua Una qua Una qua Una qua Una qua Una qua Nalla Qua Continua Sento Qualche Mostro Cattivo Ok Beh Più o Meno Sto A Mettere Un po' Di Torce In Giro Ok Dai A meno Abbiamo Un po' Illuminato Aspetta Mi pare Che Manca L'altro Lato E Mancano Anche Le torce No Ok Urca Sgraziato Ha fatto Cagassotto Eppure Motto Subito Mamma mia Ok Quindi Illuminiamo Ho finito Le torce Allora Il carbone Ce l'ho Ecco qua Un po' Di torce E Che altro Acqua Ok Passiamo Quindi All'illuminazione Diciamo Quella Base Quella Scarsa Mettiamo Magari Delle torce Qua E là Mancano Pure Qua Ok E Poi Un'altra La mettiamo Qua Una Qua Una Qua Qui Qua Qui 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 A posto Allora Fuori E' un bel Problema A sto Punto Direi Che Aspetta Ho Un'idea Ovviamente Basta Più Illuminazione Mettiamo Illuminazione Fissa Volevo Usare Come Si Chiamano La staccionata Solo che non mi ricordo Come si fa Ma no Non è un problema Non ne abbiamo Neanche più Allora la staccionata Si chiama Fans Eccolo qua Ok Facile Facile E Quindi Mi serve Questo Solo 6 No Sono Pochi Ce ne vorrebbero Di più No Non Ne ho Imparato Ok Dove Prendo Un altro Po Di Legna Legna Eccola Qua Un po Di Legna E Facciamo Un altro Po Di Questi Stick Aspetta Sto Combinando Ok Un altro Po Di Questi Fans Ok 16 Quindi Andiamo fuori A mettere Questi Fans 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 Ci bastano Direi proprio Di no O forse Si Precisi 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 Vabbè L'importante Raga E Che Si trova Al momento Qualche Soluzione Dov'è Oh guarda Ok Illuminazione Base Allora Vediamo un po Per il momento Qui con L'illuminazione Siamo a posto Io direi Di andare Anche ad Illuminare Il tetto Altrimenti Compaiono I mostri Sul tetto Potrei Mettere Delle Delle Luci Un po Alla Media Distanza Vediamo Un po Ok Quindi mettiamo Qualche Qualche luce Qualche luce Qua E là Ok Là ne ho messo Solo una Vabbè 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 Mettiamone Una Un'altra Qua Una qua 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 E qua Chiaramente Non basta Ce ne vorrebbero Di più Ne mettiamo Una qua Una qua Andiamo Dall'altra Parte Insomma Cerchiamo Un pochettino Di illuminare Qui sopra Anche se Penso Che non Basta Però Comunque Cerchiamo Di Anche Sul vetro Li posso Mettere Ok Pensavo Che non Potevo Metterli Sul vetro Beviamoci Sopra Ragazzi Beviamo Un attimo Sopra Dunque Ho ancora Un paio Di lampadine Quasi Lampadine Una volta Abbiamo Un paio Di Queste Luci Allora Le andiamo A mettere Un po' Qua Un po' Là Ne abbiamo Ancora Cinque Quindi Andiamo A fare La stessa Cosa Dall'altra Parte Peccato Qui La nostra Centrale E' Scomparsa Andiamo A mettere Ancora Qualcuna Qua E Un'altra La mettiamo Qua Ok Manca Poi Chiaramente Qui Balcone Tutto il Resto Insomma Il lavoro E' lungo Mi sa che Ho esagerato Leggermente Con la casa E' un po' Troppo Grande Per una Persona Sola Poi Quindi Peccato Che qui Non se ne Fa più Niente No Cacchio Volei fregare Viene Vieni 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 qua, vieni, 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 seguimi, seguimi, mi seguisse, mi venisse, no, 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 qua, 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 qui, qui, bravo, ah beh, ha rimosso giusto pochi blocchi, dai, mi aspettavo di meglio da parte sua, va bene, non ho neanche una, volevo rimuovere tutti questi blocchi che oramai sono diventati semplicemente antiestetici, mettiamo giusto qualche lucetta qua dentro, almeno non appaiono troppi mostri, vuoi vedere che è qua, eccolo, ok, abbiamo trovato il simpaticone di turno, andiamo a tappare sti buchi, oramai non servono più a niente, Ma bene, niente, percato, tutto rovinato, una mod andata a quel paese, praticamente, c'è poco da dire, c'è poco da fare Ah, c'è un altro keeper, un altro keeper, come cacchio li chiamo? C'era un creeper sul letto, venghi, venghi signore, venghi, venghi, no, erano così vicino, no, lì, no, lì, no, lì, non fare danni là, uno, due, non esplodere, vai a quel paese, Ok, andiamo subito a dormire, no, 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 meno male che qua sotto non ho messo nulla di elettrico Buon ragazzi, niente, era giusto per aggiornarvi ovviamente sulla situazione, non ho neanche, oramai dopo 30 gameplay, diciamo che sono andati un po' in rovina, non sapevo neanche cosa fare di preciso in questo gameplay, vi volevo giusto un po', Perché qualcuno, magari qualcuno ha pensato, Nick ha cercato la scusa per finire, per finire insomma la serie al centesimo video, no, ci mancava che io volessi finire la serie al centesimo video, non è così anche perché questo è il 101 video, però chiaramente dopo 100 video ragazzi non ho più molte idee su cos'altro diciamo fare, insomma, oltretutto dopo 30 gameplay buttati con una mod che va a rovinarsi, Quindi sono completamente un pochettino confuso, ma anche per quello che vi dicevo sto lavorando su una nuova serie, anche se non sono sicuro se si farà o meno, non al 100%, e non vi dico altro perché non vorrei illudervi, cioè teoricamente si deve fare una nuova serie, ma siccome neanche io sono sicuro al 101%, quindi se non si è mai sicuro è meglio non dire ragazzi è sicuro, vi dico solo che Ci sto lavorando e poi si vedrà il mese prossimo, insomma, se si fa o meno, non dico altro, va bene, quindi insomma dai, abbiamo messo un po' di torcia in casa, almeno meglio di niente, poi non lo so, ci rifletto su cos'altro posso fare o meno, ma comunque possibilmente poi quando faccio la nuova serie non penso che durerà ancora molto questa, dato che comunque già è da agosto che la porta avanti, ma vediamo comunque ragazzi dai Vabbè dai ragazzi, io la concludo qui, dai, spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi come sempre commentate, ditemi la vostra, lasciate un pollicione in su, vi dico solo che insomma la serie, se la farò questa serie nuova, non penso che ci sia proprio stata insomma una serie così come quella che vorrei fare, non penso che, insomma come la voglio fare io, non penso che si sia mai fatta, quindi spero che sarà Unica, insomma, o la prima più o meno, dai, non vi dico altro, va bene ragazzi, vi saluto dai, ciao alla prossima